Lo spray al peperoncino fa schifo se non sai come usarlo. Recensione breve. Se non sai come usare lo spray al peperoncino fai prima a metterlo sulla pasta, perché non ha altro utilizzo. Per contro, se sai come utilizzarlo, potrebbe esserti utile. Non voglio essere troppo duro sull'utilizzo dello strumento, ma voglio essere duro sul fatto di affidare alla propria difesa personale un oggetto esterno senza avere la più pallida idea di come utilizzarlo. Lo spray al peperoncino esiste in due tipologie. Quelli presenti in Italia devono rispettare una determinata percentuale di principio attivo per poter essere legali. E questa percentuale non è altissima, almeno rispetto ad altri prodotti venduti nel resto del mondo. Esistono due tipologie. Una è quella ad aria, per cui quando spruzzi il getto viene disperso all'interno di un'area. E l'altro è quello balistico, per cui quando spruzzi hai un getto esattamente come una pistola d'acqua. Tutti e due hanno dei problemi. Quello ad aria sicuramente è problematico se lo utilizzi in spazi chiusi, se c'è molto vento o se sei molto vicino all'aggressore. Quello balistico ha la problematica che deve avere una buona mira, ovviamente, e che se sei molto vicino devi considerare che lo spruzzo può rimbalzare. Se sei deciso a utilizzare lo spray al peperoncino per la difesa personale, segui un corso sul suo utilizzo, sono generalmente molto brevi, e allenati a utilizzarlo, perché di tutto ciò che si dice sullo spray al peperoncino ti posso garantire una cosa che da solo non funziona. E infine aspetto i tuoi commenti sotto il video, ricordati di iscriverti se non l'hai ancora fatto, mannaggia a te, e di cliccare sulla campanellina in modo tale che possa bombardarti di mail quando un nuovo video è uscito. Non ti preoccupare, sono molto pigro, non esce più di una settimana. Grazie a tutti.